Il poeta ospite Mendoio che viene dalla Mongolia, so che c'è l'ambasciatore della Mongolia, che saluto, invito Mendoio a salire sul palco, sarà introdotto da Damiano Abbeni che lo ha tradotto. Prego. Grazie, signor. Dove preferisce? Signor, signor, signor. Dove si è affermato e appunto oltre ad avere questa figura artistica ha anche l'impegno di direttore dell'Accademia di Cultura e Poesia della Mongolia. Di se stesso, lui dice appunto che nato in zone selvagge e trasferito in città, dice anche dopo tutti questi anni non mi sento un uomo di città, i miei sogni sono sempre ambientati nella steppe o nella taiga e qui mi sembra di vivere in gabbia. Adesso sto pensando di tornare a vivere nella natura e spero che anche la Mongolia decida di farlo. Lui ha un discreto, come si dice, legame col nostro paese perché ha passato tempo nella residenza per artisti di Civitella Ranieri a Umbertide ed è quello più o meno che l'ha portato ad incrociarci perché più tardi si parlerà di questo libro curato dalla direttrice di Civitella Ranieri sulle poesie dedicate ai quadri di Piero della Francesca e lui ha pure scritto per quello. Però ora occupiamoci di lui e vorrei che ci dicesse appunto un po' di più del luogo in cui è nato e cresciuto e come è diventato poeta. Grazie a tutti. Sono nata nella mense steppe della Mongolia, come il mare. Sono nata a Ghir e mia nonna che è stata affatto video. Ma la storia di cui ci diceva, che sentiva favole? Sono nata nella famiglia di un pastore nomade e cresciuta nella sella di cavallo in mense steppe della Mongolia. In quel periodo non esisteva una tecnologia, quindi l'unico trattamento erano favole, storie del nostro pubblico, del popolo. E queste storie venivano raccontate in modo molto armoniose e poetica. E quando ho cominciato allora a scrivere? Ho iniziato a scrivere l'età di dieci anni. La mia prima poesia pubblicata è la mia prima poesia pubblicata all'età di tredici anni. Quindi quando era ancora nella steppa? La mia prima poesia pubblicata è la mia prima poesia pubblicata. E i temi della tua poesia? Cosa scrive principalmente? Bambina Samara! Grazie. passa con la vita dei pastori nomade della popolo e nostra cultura storia di miei antenati e esprime la melodia di ricchezza della lingua e la società nomade quindi principalmente quello e poi in città arrivato in città c'è stato il periodo della rivoluzione democratica della mongolia e ha avuto un ruolo nei sommovimenti culturali degli anni 90 non participato al proprio la rivoluzione politica non participato al proprio la rivoluzione politica ritmati al proprio del mondo e.g.o. i.e. 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 La mia partecipazione con la rivoluzione non è stata fisica ma mentale con la mia poesia. Ho cercato di aiutare il mio popolo a comprendere la nostra cultura e la nostra storia, provato per far capire qual è il nostro passato e qual è il nostro futuro. Senti, ancora un paio di cose. Presentandolo, una cosa importante che non ho detto è che Mendooyo è un calligrafo fenomenale. Sia scrive le proprie poesie nei caratteri tradizionali mongoli, sia che si esercita in veri e propri dipinti calligrafici di un'enorme suggestione. Quindi volevo sapere che parte ha la calligrafia nella sua vita e perché sembra che sia così importante. Grazie. 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 All'epoca la scuola insegnava non in antico calligrafia mongolo, ma in cirillico. Questo periodo era veitato di insegnare in calligrafia in teco mongolo, è stato veitato quei cinquant'anni in Mongolia. Inoltre che scrive dal su in giù scrittura, questo è il simbolo del cielo, infatti le poesie che ho visto io in originale sono verticali, sono come delle tende che scendono e quindi di fatto è stato un metodo per resistere e per far continuare a vivere la tradizione del paese, quello di scrivere nei caratteri antichi della Mongolia. Ancora due cose, penso che poi possiamo passare a leggere. Allora, un'altra delle cose che succede con la poesia di Mendo Oyo è che diversi musicisti hanno usato il suo lavoro trasportandolo in musica, facendo canzoni. Allora, volevo sapere, scrive per i musicisti o sono i musicisti che prendono le sue poesie e le portano in musica. Ancora due cose, posso dire che trasmpare il suo lavoro? ma non è un poesia e scrivono musica. Alcuni pure chiedono di fare scrivere alcune poesie per la musica. Quindi scrive appositamente per i musicisti. E un'ultima cosa, appunto, arrivato a Oulam Bator, come è diventato così famoso? Com'è stata la carriera, diciamo? Questa è si sono l'ultima, abbiamo un'ultima cosa, quindi abbiamo in questo caso, questa è una volta una volta e non si è un'ultimo. Io sono un'ultimo, io sono un'ultimo, questo si è un'ultimo. Non si chiudono, la nostra è un'ultimo, non si chiedono il nostro corso, ma non si trova il nostro corso, non si tratta. Io non penso che sia così molto famoso, però io continuo a scrivere e sono molto apprezzato, meglio che dico. Molti dei miei poesi sono stati tradotti e pubblicati in molte lingue. In questi 50 anni spero di aver fatto qualcosa che rimangono nel tempo. Sì, voglio ringraziare il signor Damiani che sta leggendo le mie poesie in poeti italiani qui in Italia. Grazie mille. Sì, noi abbiamo pubblicato io e Moira Egan alcune delle sue poesie sul straniero, una rivista che purtroppo ha cessato le pubblicazioni adesso. E l'abbiamo fatto partendo dalle traduzioni che lui ci ha fornito in inglese e francese. E lavorando assieme al segretario dell'ambasciata che ci aiutava. Quindi è stato un lavoro abbastanza strano e complicato e atipico. Però adesso ne vedrete qualche esempio qui. Insomma, è diventato famoso perché è bravo e perché è veramente una voce del suo paese. Se vuole andare a leggere, cominciamo.